Eccoci qui ancora una volta dalla Berninale, ci troviamo qui davanti, proprio di fronte al manifesto di uno dei film più attesi della stagione, presentato qui naturalmente fuori concorso al Festival di Berlino. Parliamo di Logan, The Wolverine, con Hugh Jackman. Si tratta del terzo spin-off appunto dedicato ad uno dei personaggi più celebri dei mutanti appunto X-Men. Peccato che l'aitante, super muscoloso, divo australiano interpreti questo personaggio che lo ha reso così celebre per l'ultima volta. Dirà addio Jackman a questo personaggio dopo la bellezza di ben 17 anni. Naturalmente fan, paparazzi, fotografi, operatori televisivi assolutamente scatenati qui sul tappeto rosso per Jackman. Il film uscirà il prossimo 3 marzo negli Stati Uniti, il primo marzo in Italia, il 2 marzo come forse potete vedere qua anche in tedesco al cinema qui in Germania. Una particolarità, naturalmente effetti speciali come se piovesse, ma soprattutto un film che contiene diverse scene violente, tanto che sarà vietato ai minori. E dalla Berdinale anche per oggi con questo signore qui, Hugh Jackman, è tutto.